Quindi passerei senz'altro adesso la parola al professor Marani che appunto come dicevo si parla degli aspetti connessi con gli effetti sulla idrologia e l'idraulica che potranno avere questi cambiamenti. Purtroppo stiamo sforando con i tempi per cui mi scuso ma devo chiedere ai relatori di rimanere possibilmente nell'ambito di 15 minuti perché purtroppo apriamo poi c'è l'assemblea degli ingegneri e qui i tempi sono purtroppo contingentati. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e in questo contesto così importante non solo architettonicamente ma importante per il peso che gli ordini collegi hanno su questi temi e che credo debbano reclamare ed avere sempre più. Io credo di poter rapidamente arrivare alle mie conclusioni nel senso che l'Igere Mazzona ha mostrato molte delle cose che sono importanti e che costituiscono il contesto di quanto io vi voglio parlare oggi e passerò quindi rapidamente alle questioni che riguardano noi. Quindi il contesto globale l'abbiamo visto, non avete bisogno che vi convinca di questi grafici. sui meccanismi fisici forse vale la pena richiamare il fatto che non è solo una tortura dei dati che ci dice che il cambiamento climatico esiste ma abbiamo una spiegazione fisica del perché esiste, non è una correlazione tra variabili. La mela che cade sappiamo perché cade perché c'è una teoria che non è mai stata falsificata. Similmente per il cambiamento climatico non stiamo facendo una correlazione empirica tra elementi osservati apparentemente sconnessi. sappiamo esattamente quali sono i processi fisici che ne sono responsabili. Nell'interesse del tempo andrò avanti, non vi dirò chi è l'IPCC, anche se con sgomento ho scoperto con i miei studenti dell'ultimo anno di ingegneria che queste cose sono largamente oscure. Nel momento in cui poi ho deciso che una settimana, dieci giorni, li dedico stabilmente d'ora in poi a trattare di questi temi nell'ambito del corso di idrologia per gli ingegneri. I modelli di cui abbiamo sentito parlare e che ci convincono e che rappresentano questi processi fisici di cui vi dicevo e che ci convincono che siamo noi i responsabili, non facciamoci prendere in giro. Lo scetticismo ha purtroppo molta voce, troppa, rispetto al peso numerico che in realtà gli scienziati scettici hanno. Esistono, ma c'è un articolo appasso su una rivista importante che mostra come il 97,5% degli articoli scritti sul sistema terra, concluda che nei vari aspetti del sistema terra il cambiamento climatico è stato osservato, identificato e anche attribuito come responsabilità. Quindi gli scettici sono veramente pochi e è giusto che possano parlare e che debbano parlare perché è sempre importante il contenzioso, ma dobbiamo ridimensionare questo aspetto, la larghissima maggioranza di chi si occupa di questi temi è convinto del cambiamento climatico. I modelli sono uno strumento importante, qui vedete una rappresentazione di un modello GCM, Global Climate Model, ne esistono di accreditati una quarantina, non ce n'è uno, sono indipendenti, sviluppati nel tempo da diversi gruppi e rappresentano dei processi che coprono molto complessi, che coprono scale spaziali e temporali molto vaste, tanto che è probabilmente il problema computazionale più challenging che abbiamo e che non riusciamo a risolvere pienamente con le capacità di calcolo di cui disponiamo e per cui inevitabilmente alcuni dettagli dobbiamo tralasciarli. Non possiamo risolvere i processi a livello molecolare fino alle scale spaziali globali, e quindi dobbiamo da qualche parte effettuare un taglio. Ma, e questo è il fatto importante a cui ha accennato prima l'ingegnere Mazzon, se confrontiamo 40 modelli diversi, con assunzioni diverse, con metodi di soluzioni diversi e li forziamo con le osservazioni attuali e passate e facciamo un esperimento in cui selettivamente eliminiamo l'effetto dell'uomo, quindi eliminiamo le emissioni umane, quel che succede è questa differenza, la differenza tra la linea nera e la linea rossa. La linea nera è la media di questi 40 modelli dell'IPCC in termini di temperatura, di anomalia della temperatura rispetto a una media passata, mentre il colore rosso è il risultato degli stessi modelli, la media di questi modelli, in assenza di emissioni umane. Questa è la miglior indicazione, è la prova più importante che possiamo portare sul fatto che siamo noi i responsabili di tutto questo, al meglio delle nostre conoscenze, questo è il metodo scientifico, piaccia o no, è sempre al meglio delle nostre conoscenze, siamo noi i responsabili di quel che osserviamo. Cosa osserviamo? Veniamo a noi, perché parlare dei grandi sistemi è molto interessante, però è in qualche modo remoto dalla nostra esperienza, siamo in un'area che è molto soggetta agli effetti di cambiamenti climatici, in realtà se guardiamo bene ci accorgiamo che questi effetti sono intorno a noi, in maniera molto tangibile, non occorre fare gli studi globali per riuscire a vedere questi effetti. Questo che vedete è di nuovo un output di questi modelli globali e quel che ci dicono questi modelli è che la dinamica, la traiettoria che segue il sistema per quanto riguarda l'Europa, per esempio, in termini di precipitazione, è una dinamica tale per cui le storm tracks, le perturbazioni atlantiche che investono l'Europa tendranno a spostarsi sempre più verso nord, mediamente nella loro posizione. Questo provoca un clima più umido nell'Europa del nord e un clima più secco nell'Europa mediterranea. E quindi c'è da chiedersi cosa succede alle nostre parti dove siamo in qualche modo in un'area di transizione tra le due. E possiamo farlo con delle osservazioni dirette, non satelliti per quanto importanti, utili e fondamentali, in qualche modo vi danno una stima abbastanza indiretta di quel che accade alla superficie, ma una misura vecchia in questo caso proprio con dei pluviometri. A Padova esiste la serie temporale di osservazioni di pioggia giornaliera più lunga del mondo, iniziata nel 1725 dall'abate Poleni a Padova. Questa che vedete è la sequenza degli studiosi che si sono succeduti prima in laboratori sparsi a Padova, poi alla specola solo successivamente, e oggi portata avanti da ARPAV con le osservazioni presso l'orto botanico. Abbiamo ricostruito con uno stuolo di studenti e collaboratori dai documenti originali la serie temporale che è pubblicata, potete anche scaricarla se volete, basta che mi scriviate e ve la mando, che mostra come è variata la precipitazione a Padova nel corso di tre secoli. Allora, senza fare grandi analisi con le quali non vi voglio tediare, semplicemente prendiamo la media fatta su finestre di 30 anni e vediamo come questa varia quando spostiamo la finestra di 30 anni sulla sequenza di 300 anni che abbiamo a disposizione. Allora, quello che vediamo è che la precipitazione media annuale sui 30 anni ha una tendenza alla riduzione, con delle oscillazioni ovviamente che sono legate a dei fenomeni, a delle quasi periodicità del sistema Terra che conosciamo. Si dice a Padova circa 800 mm di pioggia all'anno, nel corso di idrologia che alcuni di voi avranno seguito, non è vero evidentemente, vedete, si può andare dai 1000 ai 700 mm all'anno, quindi c'è una significativa variabilità ma ha una tendenza. Ma quel che è importante rispetto a quello che ci interessa dal punto di vista ingegneristico sono i valori estremi. Abbiamo tutti noi affrontato Goombel, ora si fa di meglio, ci sono metodi più avanzati e alcuni dei quali ho proposto con il mio gruppo di ricerca e alcuni collaboratori negli ultimi 6 o 7 anni che sono molto più efficienti dei metodi classici, con i quali possiamo studiare i valori estremi di questa serie, di nuovo, su finestre di 30 anni, spostandole dal 1625 fino ai giorni nostri. Allora, quel che accade, vedete, è che c'è una variazione importante nell'estremo qui definito come la pioggia centenaria, ovvero la pioggia con tempo di ritorno a 100 anni, ovvero la pioggia giornaliera che è eguagliata o superata in media una volta ogni 100 anni. O, se volete, la stessa cosa, la pioggia che ha la probabilità di 1 su 100 di verificarsi in ogni singolo anno. Allora, se andiamo a vedere la variazione, vediamo che se ci mettiamo nel 1919 a progettare una qualsiasi opera e abbiamo a disposizione 30 anni di osservazioni, l'evento di progetto è quel pallino verde che si attesta sui 125 mm. Ma poi l'opera, una vita utile di 100 anni, vogliamo negarla, l'opera si trova ad affrontare degli eventi estremi che sono completamente diversi. Perché? Perché non siamo in grado, con le metodologie attuali, di tenere in conto i cambiamenti climatici. semplicemente questo. Abbiamo, ne sentiamo parlare, Greta Thunberg ci dice che dobbiamo essere tutti nel panico, dovremmo esserlo, ma non abbiamo degli strumenti ingegneristici, operativi, per affrontare questi problemi. È ancora un problema che non è arrivato alla professione e che è un problema che non è stato travasato dalla ricerca verso la pratica. Medio mare, velocemente, ho ancora due o tre minuti se me li date, misure del comune alla punta della salute, siamo a Venezia, è impossibile non parlarne. Questa è la serie temporale misurata a Venezia, vedete in rosso la media mobile dei livelli, quindi il medio mare che cambia, dal 1872 ad oggi 37 cm più in alto, ok, erano 23 alla fine del secolo, quella linea rossa vuol dire che gli eventi estremi saranno sempre più rilevanti, anche senza che le tempeste aumentino di intensità, che peraltro è probabile che stiano facendo. Quindi anche se consideriamo solo, vedete nel plot sottostante, le fluttuazioni rispetto al medio mare contemporaneo, cioè del tempo in ciascun momento, quindi sottraendo il medio mare ogni anno, guardando solo le fluttuazioni rispetto al medio mare. Studiamo questo segnale. E poi sovraimponiamo a quel segnale il cambiamento del medio mare, fino a dove lo conosciamo, linea nera, e linea rossa quello che è proiettato dall'IPCC non per la media globale, ma per il Golfo di Venezia, come vedete questo pixel che vedete qui in marrone, che forse, sì, vedete, intravedete. Allora possiamo dire un po' di cose, possiamo visualizzare cosa succede. Il canaletto usava la camera oscura per dipingere i suoi quadri, le sue scene, quindi le scale verticali in particolare sono molto ben preservate. Prendiamo a riferimento due personaggi, il più alto assumiamo abbia l'altezza media del tempo, circa un metro e settanta, e visualizziamo l'evento del 66. Questo è l'evento del 66 in Piazza San Marco, con il medio mare del 66. Nel 1750, quando quel quadro è stato dipinto, quello sarebbe stato l'evento del 66, perché il medio mare era molto più in basso, quindi lo stesso evento, la stessa acqua alta, produce degli effetti completamente diversi. Ma possiamo adesso proiettare verso il futuro. Verso il futuro questo è l'effetto di quello stesso evento, con il medio mare previsto per il 2100. Quindi anche senza intensificarsi degli eventi tempestosi, andiamo sicuramente incontro a un intensificarsi degli impatti di questi eventi tempestosi. Finisco con questa applicazione di questo metodo di cui vi parlavo, che si chiama Metastatistical Extreme Value Distribution, che andiamo proponendo, per studiare le distribuzioni di probabilità degli eventi estremi di acque alte. Per abbreviare, qui vediamo il 12 novembre 2019, H è la sola componente sopra il medio mare, quell'evento si è sovraimposto su un medio mare che era molto più alto del 66. Quindi la sua eccezionalità è molto minore rispetto al 66. Il tempo di ritorno dell'evento del 66 è di circa 300 anni, un poco superiore. Il tempo di ritorno del 12 novembre 2019 è circa 85 anni, quindi molto molto più frequente. Domani cosa succede? In alzamento del medio mare possiamo esattamente calcolare quali saranno nel 2100 i tempi di ritorno. Il 4 novembre del 66 nel 2100 avrà un tempo di ritorno di 11 anni. In media una volta ogni 10 anni si presenta o viene superato. Per cui sono concreti, sono davanti a noi. Il MOSE che ha funzionato serve, non servirà per sempre, serve perché ci difende da quelle acque alte, ma attenzione, è ora di cominciare a parlare di cosa facciamo dopo, perché ci abbiamo messo una cinquantina, sessantina d'anni a costruirlo. e nel 2100, vedete, il numero di chiusure saranno 260 chiusure all'anno nel 2100. Non possiamo aspettare il 2100 a trovare un'alternativa, perché ci separano solo 80 anni di fatto da quel momento. Quindi è il momento di chiederci, MOSE bisogna che funzioni, cosa dovremo fare ulteriormente rispetto a questo. Tre conclusioni, tre importanti. Guardando il position paper, che trovo, sono preoccupato perché di solito i miei collaboratori mi guardano male, perché corrego tutto, invece mi trovo allineato perfettamente con quello che viene scritto in questo documento. Alcuni elementi importanti. interdisciplinarietà, che viene richiamata nel documento. Gli ingegneri devono essere in grado di parlare con altre competenze, non possiamo rimanere chiusi nelle nostre tradizionali competenze. Dobbiamo capire e imparare i processi di altro genere che non sono tradizionalmente parte del nostro milioe culturale. Dobbiamo essere protagonisti, perché gli ingegneri hanno questa tradizione del fare, sanno come affrontare le cose, possono essere dei leader nell'affrontare i problemi climatici, a patto che sappiano cogliere questa occasione, devono guidare, non devono seguire. In questo senso il position paper è molto importante e spero che possa avere la risonanza che merita. perché la cultura del rischio idrogeologico è insita nella formazione dell'ingegnere ed è quella di cui abbiamo bisogno, che dobbiamo estendere ad altre discipline, parlando ad altre discipline, includendo i cambiamenti climatici e metodologie concrete che ne possano tenere conto. a 17 minuti, spero di aver recuperato un po' di tempo. Grazie. Grazie mille, professore. È stato sintetico, ma davvero molto interessante il suo intervento. Ci ha detto cose che un po' ci preoccupano, devo dire che tanto ci preoccupano, soprattutto per la franchezza con cui ha presentato un futuro che insomma non è tanto... Però su questo ci sarà molto molto da fare.